Buona lì! Eccoci sotto i laghi di bella Venezia, siamo nel lago Rai e questa è la malga Fierollo di sopra, è un posto stupendo. Lì abbiamo una bella legnaia, entriamo, un bel camino per scaldarci, un lavandino, una stufa power, lì un po' di mobilia con dentro delle pentole e quant'altro possa servire per cucinare, un bel tavolo e di là dei letti, ma qui c'è il lavandino con l'acqua, poi qui una credenza, c'è anche il caffè, eccolo lì, quello giallo e poi per finire stanza da letto, camera da letto, due sopparchi, no due letti a castello ma senza materassi né coperte, non le abbiamo ancora trovate, posto stupendo, soprattutto per l'inverno, sembra davvero molto molto caldo e lì sopra la mansarda per i bambini, manca la moca però, accidenti!